Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Sono uomini di età inferiore ai 50 anni che cercano di sfruttare le caratteristiche tecniche dei diversi servizi di rete, della messaggistica istantanea nel tentativo di assicurarsi anonimato e impunità. Questo l'identikit di coloro che principalmente in rete adescano minori. È la polizia postale a condividere dati e informazioni nella giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Si tratta di soggetti di elevata pericolosità, afferma la polizia in un comunicato, tendenzialmente recidivi spesso colti in flagranza di reato. I minori sono le vittime più fragili di comportamenti illeciti e distorti posti in essere da singoli o addirittura anche da reti organizzate. Il centro operativo della polizia postale per la Toscana nel corso del 2022 ha denunciato 101 persone per reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori online. In 15 gli arresti e 90 le perquisizioni su tutto il territorio regionale, registrando rispetto agli anni precedenti un sostanziale aumento dei casi. Torniamo a parlare del crack di Banca Etruria perché questa mattina doveva partire il processo presso la Corte d'Appello di Firenze per quello che riguarda il filone della bancarotta semplice e fraudolenta e invece c'è stato l'ennesimo rinvio. Tutto rinviato in autunno, il processo d'appello per il crack di Banca Etruria, in particolare il filone della bancarotta, ha subito questa mattina un altro rinvio. La Corte d'Appello di Firenze ha rinviato il procedimento al prossimo 16 di ottobre, un lasso di tempo, dunque 5 mesi, che pone di fronte il rischio della prescrizione soprattutto per il reato di bancarotta semplice. La sentenza di primo grado fu pronunciata il 1 ottobre 2021. Un solo condannato, Alberto Rigotti, pena 6 anni, tutti gli altri imputati assolti. Il ricorso avanzato dalla procura di Arezzo e dall'unico condannato è stato accolto, ma i tempi per la partenza del processo si allungano e di parecchio. Inutile dire che i risparmiatori, che si sono costituiti parte civile nel processo, sono rimasti increduli e sbigottiti. Circa la metà degli imputati sono infatti accusati di bancarotta semplice, reato questo che alcuni giorni dopo la data dell'udienza, il 16 ottobre 2023, sarà estinto. Incidente lungo il tratto aretino dell'autosole si è verificato poco dopo le 14.30 di oggi nel tratto compreso tra Incisa e Valdarno in direzione nord, dunque in corsia sud. Qui, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha perso il rimorchio in corrispondenza del chilometro 325. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale, il personale della direzione del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. E come reso noto proprio da Autostrade per l'Italia, il tratto interessato ha avuto dei importanti problemi riguardo il traffico. Si sono formate lunghe code, addirittura di 8 chilometri. Adesso la situazione è tornata alla normalità. Parliamo adesso invece dell'avvertenza FIMER a poche ore di distanza dal sì dell'offerta McLaren. Indubbiamente insomma un passo decisivo verso una positiva risoluzione. E ancora l'altro sì importantissimo del Tribunale alla prosecuzione del concordato in continuità. Oggi i rappresentanti proprio del fondo Greybull McLaren si sono presentati alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni. Vediamo. Oggi c'è una buona notizia per FIMER perché ci sono tutte le condizioni concrete per agganciare la ripartenza. La ripartenza deve essere agganciata e l'azienda per noi rimane una sorvegliata speciale. Termina un'altra mattinata di confronto all'interno dello stabilimento FIMER. Oggi non solo con le rappresentanze sindacali ma anche con le istituzioni, la regione e il comune che hanno potuto conoscere, anche se solo con un collegamento a distanza, l'investitore, quindi il rappresentante del fondo Greybull McLaren. Sicuramente loro hanno posto l'attenzione sulle competenze, anche sulla resilienza dei lavoratori che sono rimasti qui nonostante tutto. Sicuramente l'orizzonte è crescere. Il fondo porterà intanto denaro fresco in azienda, ossigeno puro per la produzione per evitare il fallimento scongiurato definitivamente dopo il sì del Tribunale alla prosecuzione del concordato in continuità. L'obiettivo principale ed innegabile di noi come organizzazioni sindacali e l'obiettivo che ci diamo con questi incontri settimanali non è al di là di come verranno spesi questi soldi ma anche che non ci siano ulteriori colpi di scena o frizioni che nell'ultimo mese hanno davvero messo in discussione la tenuta dell'azienda di 280 lavoratori, più V-mercate e più l'indotto. Ma le tappe per arrivare alla parola fine ancora non sono terminate. Bisogna arrivare ad ottobre quando ci sarà la dunanza dei creditori. Una frase che ha detto il management di McLaren e che condivido pienamente. Ci sono due eroi in questa vicenda, da un lato i lavoratori per la loro resilienza, dall'altro i fornitori che nonostante le difficoltà hanno continuato ad approvvigionare e sostenere questa realtà aziendale. Nel mezzo ogni tempesta, ogni burrasca a questo punto potrebbe essere fatale. Che non ci siano colpi di scena, ulteriori colpi di scena da chi in questi ultimi giorni ci ha costantemente rappresentato, evidenziato che la realtà supera di gran lunga la fantasia. Ecco, noi di questo non abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di mettersi tutti insieme a lavorare e a cominciare a tracciare la strada che porta questa azienda, il gruppo intero fuori dalla procedura concordataria. Tra due settimane un nuovo incontro dove il fondo presenterà il piano industriale. Un gruppo di lavoro attivo nel monitoraggio e nel rendicontazione dei cantieri finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è svolto proprio oggi all'interno del Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo l'incontro che ha visto i sindaci della Retina a confronto con il prefetto Maddalena De Luca. Un incontro che ha rappresentato un importante momento di riflessione sulla straordinaria importanza strategica che appunto riveste il piano e sulla necessità che tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione delle opere previste svolgono le attività di propria competenza con efficienza ed efficacia per il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi programmati. Sono in tutto 600 gli studenti coinvolti dal progetto Testimoni di Pace per educare le giovani generazioni ai valori di pace, memoria e solidarietà. Questo percorso promosso dalla sezione di Arezzo dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra giungerà al suo epilogo martedì prossimo 9 maggio con l'incontro finale con le classi della scuola secondaria di primo grado Martiri di Civitella di Badia Alpino a cui verrà proposta un'esperienza a diretto contatto con i testimoni dei conflitti di ieri e di oggi. L'appuntamento farà affidamento anche sulle parole del padre comboniano John Hammond che concluderà i laboratori spiegando ai ragazzi come quotidianamente rendersi protagonisti e costruttori di pace. Cambiamo decisamente argomento, gara ai fornelli tra gli agri-chef di tutta la Toscana il lampredotto sarà il piatto top. Sarà il lampredotto impreziosito dalla cipolla rossa della Valtiberina a rappresentare la Toscana all'Agrichef Festival che ad Amatrice nel mese di maggio vedrà sfidarsi i migliori cuochi contadini di turismo verdecia di Italia. È un'iniziativa che si fa in tante regioni d'Italia che serve a mettere assieme e a far comunicare le scuole, appunto, gli istituti alberghieri quindi i ragazzi che saranno i cuochi del domani con gli chef delle aziende agrituristiche abituati a trattare prodotti del territorio. Il piatto è stato scelto dalla giuria che all'istituto alberghiero di Caprese Michelangelo ha assaggiato le portate preparate dagli agri-chef provenienti da tutte le province toscane assieme agli studenti, protagonista sempre la cipolla rossa della Valtiberina uno dei 300 prodotti tradizionali toscani iscritti nel repertorio regionale come risorsa genetica a rischio di estinzione. Tutto parte dalla conoscenza, dalla conoscenza del nostro territorio dei prodotti che appunto sono tradizionali di questi luoghi e che i nostri agricoltori con tanto sapere, con tanta fatica anche riescono a portare nelle loro cucine. Molto apprezzate anche le preparazioni degli agri-chef aretini. Partendo dal territorio dove siamo, che per esempio è Michelangelo, abbiamo fatto un baldino il classico castagnaccio con farina di castagna, una mousse alla cipolla e sopra un top di cipolla caramellata accompagnato da una crema di pecorino. Noi invece abbiamo fatto dei ravioli, nella pasta dei ravioli abbiamo messo della rapa rossa mentre la cipolla era all'interno del raviolo, era cipolla caramellata con uvetta e ricotta e accompagnato da una mousse fatta con panna, pecorino e zafferano. E adesso invece parliamo di imprenditorialità giovanile ed etica alla fondazione Monnalisa, capofila del progetto Make Sense. Nice to meet you, I'm Matilde and I'm working in Monnalisa as product development coordinator. Monnalisa apre le sue porte agli studenti di tutta Europa grazie al progetto Make Sense che è l'acronimo che vuol dire appunto Make Social Enterprises in School Education. L'obiettivo del progetto è quello di scambiare le buone pratiche con gli altri paesi europei nell'ottica della formazione all'attività di impresa e alla responsabilità sociale. Un progetto europeo che è giunto ora al suo terzo anno dove la fondazione Monnalisa è capofila di un partenariato a livello appunto europeo assieme all'Irlanda, alla Slovenia e alla Romania. Per la fondazione Monnalisa l'obiettivo di stimolo all'imprenditorialità giovanile ed etica è uno dei punti chiave della mission. Infatti risale a quattro anni fa il progetto Arezzo Ethic Academy che ora quindi va a trovare un contesto più internazionale dove appunto i nostri ragazzi italiani, specificatamente gli studenti del liceo Colonna e del liceo Ready hanno modo di confrontare le loro idee di start-up imprenditoriali con gli studenti degli altri paesi. Ho un grande piacere di vedere il reale Europa presente a Arezzo, la sento, la vivo ancora di più di quando portavo il passaporto che c'era la CE e non era ancora la EU, l'Europa Unità. Io sento veramente che nei loro lavori proprio che c'è affinità di concetti e vedere che una start-up a migliaia di chilometri è similare a quella fatta a Arezzo mi gratifica moltissimo, mi dà grande soddisfazione. Noi siamo venuti dalla Slovenia, i 12 ragazzi con i quali siamo venuti, due professoresse, sono molto contenti perché loro imparano anche l'italiano, quindi adesso fanno parte di questo progetto e finora sono stati molto contenti, li piace il paese, la cultura, insomma un'esperienza molto positiva. Tra gli studenti e a Rettini del liceo Ready il progetto Descafè. È un bar dove tutti gli studenti possono andare per conoscere nuove persone e fare dei progetti, delle nuove iniziative, è tutto interamente gestita da studenti e noi pensavamo appunto a un riutilizzo delle nostre risorse, ovvero possiamo fare ripetizioni dopo scuola per bambini per poi finanziare anche delle attività più creative come abbiamo pensato a una Fashion Week, a un corso di teatro o a tante altre iniziative che poi possono essere anche cambiate grazie alle idee di chi frequenterà questo posto. La nostra idea di base è stata quella del gusto del brutto, ovvero il voler riutilizzare per esempio vecchi vestiti portati dagli studenti, da coloro che partecipano a questo progetto, proprio per ricreare una moda giovanile riutilizzando i vecchi scarti e quello che normalmente invece viene buttato via. Quindi è comunque un modo ecosostenibile di sfruttare ciò che normalmente non utilizziamo. Al via la prossima settimana la seconda parte dei lavori notturni sul raccordo autostradale Arezzo-Battifolle per contenere i disagi al traffico. I lavori si svolgeranno come era accaduto nella prima parte dei lavori in onario notturno dalle 20.30 alle 6.30 del mattino ad esclusione delle notti di sabato e domenica. I lavori torneranno sul raccordo il prossimo lunedì 8 maggio ad eseguirli ANAS. Si tratta appunto della seconda sessione di lavori di risanamento della pavimentazione nell'ambito dell'intervento di ripristino del piano viabile, un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 di maggio. Un nuovo ciclo di scaffali dedicato alla psicoanalisi e al lockdown tra emergenze e disagio giovanile all'iniziativa della Biblioteca Città di Arezzo. Psicanalisi e lockdown tra emergenze e disagio giovanile. Parte da qui il nuovo ciclo di scaffali, tre conferenze organizzate dalla Biblioteca Città di Arezzo assieme a Fondazione Guido di Arezzo e Feltrinelli Point. Il lockdown ha contribuito a fare emergere alcune necessità particolarmente impellenti dal punto di vista di coloro che erano soggetti ad una cura in ambito psicoanalitico, soprattutto per quello che riguarda il mondo giovanile. Il primo appuntamento è in programma per il 6 maggio alle 17.30 alla Biblioteca Cittadina. Il tema sarà psicanalisti in lockdown. Presenteremo il libro di Adelia Lucattini, che è un libro da lei curato, che tratta proprio a più mani il tema delle emergenze e del disagio giovanile, analizzato da un gruppo di psichiatri appartenenti a nazioni diverse in periodi differenti del lockdown. Agli inizi più o meno a metà e poi alla fine del lockdown stesso. Quindi abbiamo riscontrato un aumento drammatico del disagio delle persone. E del resto gli stessi psicoanalisti si sono trovati in una situazione completamente diversa, perché il setting analitico è cambiato profondamente dalla tradizionale stanza studio dello psicoanalista. Improvvisamente si sono trovati online nelle stanze virtuali in cui si effettuava l'analisi stessa. E siamo allo sport, iniziamo subito con la festa azzurra dei tifosi partenopei che ha invaso anche la nostra città proprio ieri in occasione della vittoria matematica a questo punto del terzo scudetto. La festa dei napoletani di Arezzo è iniziata con il fischio finale di Udinese Napoli. Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Un evento atteso dai partenopei da oltre 30 anni, l'ultimo scudetto è datato 1990 dai tempi di Maradona. Un'esplosione di euforia incontenibile si è riversata nel centro storico aretino, panieri fumogeni, caroselli d'auto e fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno piazza Guido Monaco. Una notte di festa che ha colorato anche la città di Arezzo di azzurro. VAMOS! E domenica 7 maggio invece, parlando di basket, alle 18, l'Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata in gara 3 nella semifinale play-off per la promozione in Serie B sul parquet del Pala Tagliate di Lucca contro il Basketball Club. Dopo i due successi casalinghi, l'Amen proverà a strappare il punto che vale l'accesso alla finale. Le prime due sfide hanno già dimostrato tutte le qualità e la competenza della formazione lucchese che avrà dalla sua anche il sostegno del proprio pubblico. Insomma, vedremo come andrà a finire. E infine, domenica 7 maggio, in questo caso parliamo invece di baseball. La Arezzo Baseball sarà in trasferta sul campo dei Lancers BC 1982 alla Strassigna per difendere il primo posto in classifica. La prima partita è prevista alle 10, la seconda invece alle 15. Poi ovviamente nei prossimi telegiornali vi diremo come sarà andata a finire. È tutto per questa edizione, grazie per la cortesia e attenzione. Arrivederci.